buongiorno ciao a tutti intro in macchina sono appena arrivato non vi voglio dire dove ora sto aspettando riccardo di pezzo fishing link in descrizione è ragazzo che è venuto a trovarci nella scorsa pescata e ora io credendo di essere in ritardo dire il vero sono arrivato in anticipo perché deve ancora arrivare adesso sto morendo dal caldo devo far raffreddare un attimo la macchina e tra poco ci aggiorniamo pezzo fishing, tz fishing, podelta fishing, sessione e pezzi oh qua pezzi è un filo che ha è un nastro partita la seconda canna io vado tira che la tua canna vieni qua? ma si dai tira la trofia grazie vai pezzo quando sei stufo attenzione passaggio di pesce per Gianluca è un bel pesce è un bel pesce capo è il campanello ma non abbiamo aggiunto il pietro tu vai? non ti vieno non ti vieno e tu vai? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giro, giro, tondo, casca al mondo. Big Valer, pezzo arriva. No, non arriva. Aspetta, dillo, ma... Eh, pescione qui. No, non arriva. No, non arriva. Especione. Super Bala. cazzato ci siamo ci siamo sono abissuto vedi ora non puoi te è cessa qua? è cessa però anche io non sono abituato di vieni qua no ma il discorso del mulinello è così? no? basta che giri in avanti se no giratelo come vuoi te come vai meglio sotto i miei coglioni sono quelli adesso il fishing impiega guarda che è sbogliata è grosso eh si che è grosso non tirare tanto in su vai giù adesso ho sbogliato un po tira di più degli altri che hai preso tu la chiamo questo qua grosso eh si? questo è grosso è grosso è grosso è grosso ecco io ecco io io ero un ditto ecco ecco prima ero ecco I close my heart to you, you see, it opens up for nobody It's been so hard to fall asleep, the weather always makes my nose bleed Makes my nose bleed Yeah, it's not you that I need You push me down when I'm weak You ain't never there for me Go pick up your keys and leave I can't go back to you, my friend Don't leave us, don't blame for you You think you're like, everything I need But I'm gonna live We're going to go back to you, my friend We're going to go back to you Do you want to put your head on the roof? Oh, it's just 170 170 Oh, my God, do you want to go back to you? Fuck, falla, curva Because of course, if you want to go back to you But if you want to go back or you want it? Maybe I'll go back to you This is the right way It's not It's a lot How's it? 1,75 1,75 It's a lot bigger You want the legs to go back to you But it's beautiful And this one, it's fun Yes, it's fun It's a lot of 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 Tanti ragazzi, bravissimi! Dai, questo pesce! Di qualcosa, pezzo! Oh! Che va a fare? Il pesce già? Mi so di humorarlo che non è il pesce mio Però vedi stesso? Oh, pezzo! Il primo! Speriamo ne arrivano degli altri Speriamo sì, bel pesciolone E' come a tu Riccardo! E' come la mia! E' la mia più rosa! Guarda, guarda, guarda che sta andando È andato, è andato Aspetta che sbracca Oh, ragazzi Vai, vai, vai! No, no, aspetta che sbracca Ha che mi sa... No Ha che non si sia incastrato Ehi Rilascio ragazzi Super pesciolone, bellissimo Super combattimento Un bella testolina, dai! E non è niente male per iniziare Un po' delta fishing, pezzo fishing, faggio fishing, tutti... TZ fishing! Le zeole! Le zeole! Vai! E via libero! Sempre! Siamo venuti a controllare l'esca perché forse aveva mangiato prima C'è, c'è Ce l'esca ancora È che non vedo come è attaccata Magari... Eh, ci ha dato però, ci ha dato A posto Ricca latta la seconda canna Seconda vero? Già due partenze Un pesce è stato preso Sulla tua canna, giusto vero? Già Sulla canna di Gianluca ha ferrato pezzo però dopo... Mezzo di combattimento Se l'ha ripreso Esatto E nulla Vedremo C'è ancora tempo C'è ancora chiaro Bisogna portare pazienza Avanti tutta Ha neanche il tempo di mettere la canna sul picchetto Ma io ve l'ho detto che c'era Vai pezzo Un po' è che è grosso anche questo Grosso Tira Più o meno Pompa, pompa Neanche mettere la canna sul picchetto Perché penso soffravo io qua dal gommone Era anche pronto Vabbè lui vai Ma va là no No, no, no Vabbè Dio, cantina Dio, madre Ci devi prendere un po' è a mano Come indietro Ecco, ti tengo un po' con la retromarcia così tieni in tensione Pesciolone Libero Li lasciamo subito dai Ciao bello Grazie 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 Allora siamo in pesca Un po' fuori Ha saltato Come i cosi Come gli storioni Vai Ma recuperi da qua Adesso vedremo Sono agro Ho visto che bisogna tagliare l'indicato Oh ragazzi Siamo anche un po' stufi Pesci O siamo avanti così Andiamo a pionire senza esca E metterò Un mio diokanderatore Un vibratore Oh davvero ragazzi Assurdo Comunque C'è la distanza di quanto? Dieci minuti? Niente Un'attività assurda Prima Durante la strada Da ritorno Adesso dopo cinque minuti Esatto Pesci Pesci Da quando sono nato Ho visto quel mare di oka Vai pompa Su Opa 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 Pesci 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 Ma ce l'aveva nella branchia Pesci 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 Adesso ragazzi Va bene tutto Oh Parliamo Oh 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 La tua pezzo La prima Perché non mi va il flash? Eccola Eh ma piccolo diokander Piccolo otto Adesso va Adesso va Adesso va Adesso va Adesso va Adesso va Ricchi Ah che va giù piano questo Anche adesso Che cazzo ha fatto tua mamma? Non sbaglio Dai Secondo me c'è Allora Riccardo ci mostrerà le sue qualità dai Yes You can see me You can see me Fa vedere come funge questa torcia Oppa Oppa Mamma mia Basta Ma va a gasso queste cose E anche stasera break con gli avvisatori di Davide Il Ceracat Troverete i link in descrizione Sono dei super avvisatori Altra partenza Vai pezzo Com'è Ricchi? Bello Bello Belle testate Vai Ricchi Ce l'abbiamo quasi Quasi sotto riba Beh Mica piccolo eh Dai pezzo Pompalo finchè qua sotto Alla Gluta Perciò Quella Ola E 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 eccoci qua ragazzi non so sarà il due centesimo pesce che prendiamo niente dai ci siamo riusciti anche questa volta break un po lunga però è arrivata sarà un pesce da mettere 50 se tanto top pezzo fishing sempre in pesca faggio team cioe e poi delta fishing oh yes video rilascio ciao e allora siamo finalmente in piega anche le zecche è già entrato lo shock leader no scherzavo il faggio sbanga allora piccolo aggiornamento abbiamo ancora tre cani in pesca stiamo uscendo a ricalare di nuovo abbiamo già fatto tre pesci se non sbaglio sui cinque partenze non ci possiamo lamentare adesso abbiamo acceso il fuoco e una volta che avremo tutte le cani in pesca si spera di riuscire a riposare un attimo perché per il momento c'è stata un'attività da c'è stata un'attività assurda quindi ci vediamo presto vale vale lì ole neanche fatto in tempo a dirlo è partita un'altra vai gian piccolotto questo adesso inizia lungo recupero un altro pesce per gian belli incazzati stasera grande super prese ciao ciao di nuovo bye bye spero ho fatto un altro pesce non ho registrato abbiamo anche come potete vedere recuperato una borsa assieme al pesce questo qua è già un po' più carino ha già il fermo per l'altro esatto già sto perino auguri per sbloccarlo un bel zuccone cos'è questo qua beh sarà come sarai 160 ehi non stringere apra la bocca fighe bottana questo qua sembra quasi come il 175 di prima dai cosa ti dici te secondo me è 160 questo questo qua è un metro e 50 55 165 dai procediamo al rilascio nel pesce da un metro e 65 inizia ad aumentare la taglia 2 parole al volo come cazzo sta andando oh dai troppi pesci riccardo che stufo di cavolo a casa quando andare a fare una notte anche a doma alè un altro vai 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 pezzi a nastro via 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 come sembra questo dai vediamo quando arriva esatto perché da notare stone island jordan adidas e siluri belli onti cica in bocca è cazzo duro vai così così mi piace e comunque ricky jasmine sei una puttana ok si era un po' incagliato no beh ma prima si era bloccato sul serio e questo è bello ragazzi eh ha sbollato bello distante però sì sì sono sono belli potenti questi beh comunque anche per essere una taglia media complimenti eccolo qua tocca tagliarle è un altro pesciolone arriva sì sì è un altro pesciolone sì è un altro pesciolone è un piccolo buongiorno pescato finita cosa dice ricky al top pezzi a nastro proprio nel vero senso della parola c'è tipo come un nastro sai che gira pezzi di pezzi pezzi notte è andata bene ieri sera siamo arrivati nello spot subito una super attività fino a mezzanotte luna poi ha sbreccato un paio di cane nella notte perché si vede che ha fatto un po' più freddo e si sono un po' imbacchettati e niente basta però non abbiamo fatto i parecchi sì avevamo fatto sei pesci di sette più aggiungici quelli slamati c'è stata un'attività veramente fuori di testa io non me l'aspettavo il signorino qua secondo me lo sapeva più che bene e io lo sapevo l'avevo detto e me la faggio mi fa andiamo fuori in pezzi e va bene ti porto fuori in pezzi e nulla non ci possiamo lamentare adesso ho fatto un po' di colazione sbaracchiamo tutto o meglio io sbaracco tutto loro resteranno qui ancora un po' e basta ci vediamo la prossima pescata con tz fishing pezzo fishing e poi delta fishing che è fuori a spinning perché lui la prima cosa che fa la mattina quando si sveglia non è colazione ma è andare a fare due lanci la colazione dei pescatori e niente ciao a tutti